Alla scoperta o forse alla riscoperta delle bellezze dell'abrianza grazie a un progetto realizzato da Living Land in collaborazione con il consorzio Villa Greppi di Monticello. Tre gruppi di giovani hanno elaborato altrettanti percorsi per scoprire fra arte e cultura il nostro territorio. Grazie al progetto Living Land parte questa iniziativa che è dei coinvolti tre gruppi di giovani. Il tema che vogliamo sottolineare e sostenere è quello dell'imprenditività, cioè della capacità di fare dei giovani valorizzando le loro competenze e contemporaneamente valorizzando quelle che sono le bellezze naturalistiche, culturali e paesaggistiche del territorio. Per iscriversi all'iniziativa si può fare riferimento a una mail prianzadascoprire.gmail.com Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.livingland.info oppure sul sito del consorzio di Villa Greppi. Il nostro progetto si intitola Sulle orme di Flora e prende spunto dal libro Note nell'aria. Si snoda tra Monticello, Cortenova e Besana e metterà in luce alcuni aspetti artistici e architettonici di alcuni edifici e anche metterà in luce la vita della prima metà del Novecento, per cui anche attraverso la riscoperta di alcune cascine e prodotti tipici del luogo. Il nostro progetto prevede otto uscite, quattro per bambini delle scuole elementari e quattro per gli adulti, sui comuni di Besana, Casate Novo, Briosco e Triugio. La prima uscita sarà il 30 aprile a Briosco, che si concentra sulla frazione di Capriano, poi c'è il 14 maggio a Triugio, il 10 settembre a Casate Novo e l'8 ottobre a Besana. Scopriamo la storia locale, l'arte un po' collegata alla natura, al tema ecologico in questi nostri comuni. Il nostro percorso si snoda lungo il parco della Valletta e coinvolge i comuni di Monticello, di Cassago e di Cremella e infine di Bulciago. L'idea è quella attraverso dei dispositivi paesaggistici e attraverso delle cornici di mettere insieme i paesaggi del nostro territorio, insieme alla cultura storica dei nostri paesi, con la visita di alcune cascine. Abbiamo sposato questo progetto, direi fondamentalmente, per due motivi. Intanto perché una delle finalità principali è la valorizzazione del territorio, che è da sempre l'anima del consorzio. Cerchiamo di far scoprire al grande pubblico veramente le bellezze culturali e naturalistiche che qui da noi abbondano. L'altro aspetto che ci ha molto appassionato è il fatto che si è rivolto a dei giovani.